Ciao sono Valentina Mandilli, LinkedIn Expert e oggi in 60 secondi voglio parlarti di LinkedIn e autorevolezza. Bene, uno degli elementi fondamentali è sicuramente il non parlare male degli altri, questo perché vi torna sicuramente indietro in mille modi. Magari commentare un post di un collega e dire che non siete d'accordo questo è giusto, però per esempio andare a parlare male di una persona facendo capire che quella persona ma non dicendo il nome è una pratica molto usata e mi è capitato di subirla molte volte all'interno della mia crescita professionale. Non è una cosa buona, non è qualcosa che vi porta comunque una visibilità e soprattutto autorevolezza. L'autorevolezza è dimostrare che si sa fare con le proprie mani, dimostrare i risultati e sapere aiutare le persone. Bene, questo è tutto e se ti è piaciuto questo video clicca like o consiglia dipende da dove lo vedi. Ciao da Valentina!